Sono state già raccolte 5.000 firme in un solo giorno per il nuovo referendum abrogativo Ripudia la guerra, nello specifico sull'invio delle armi in Ucraina. Un numero che rappresenta un buon auspicio se si considerano le 500.000 firme necessarie. Allora noi ci proponiamo di abrogare parzialmente l'articolo 185 del 90 che in pratica dà facoltà al governo di poter sovvertire il dettato costituzionale dell'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra e quindi di inviare le armi ai paesi belligeranti. Anche in Abruzzo come in altre regioni italiane ci sono i banchetti appositi in cui recarsi con un documento d'identità. Questa mattina a Pescara in via Pepe sono state tante le persone che hanno chiesto informazioni diverse quelle che hanno aderito. Abbiamo tre mesi di tempo, difatti la raccolta di firme finirà a fine luglio e vogliamo che l'Italia non destini soldi per le armi perché riteniamo che i problemi italiani siano tanti e quindi i 10 miliardi che l'Italia ha destinato all'invio delle armi all'Ucraina debbano essere utilizzati per quelli che sono i diritti sociali degli italiani, cioè sanità, scuola e pensioni. Anche l'Abruzzo sta facendo la sua parte? Certo, anche l'Abruzzo sta facendo la sua parte. Noi abbiamo iniziato sabato a Lanciano, abbiamo continuato ieri a Lanciano, centinaia sono le firme raccolte. Oggi siamo a Pescara, questa sera a Chieti, domani siamo di nuovo a Pescara, a Teramo e a Lanciano. Abbiamo punti di raccolta, è possibile firmare in tutti i comuni superiori ai 5 mila abitanti, quindi recandosi direttamente in comune. e un'ultima cosa è prevista anche la firma online con lo speed o con altra certificazione fatta online perché le firme per il referendum lo prevede. Quindi è possibile firmare in tutti i modi, sia nei banchetti che nei comuni e che online.